Notte di tensione in Egitto dopo che oppositori e sostenitori del deposto presidente Morsi sono scesi in strada in varie città del paese. A Mansur a tre persone sono rimaste uccise negli scontri. Qui siamo al Cairo, la fazione promorsi ha invaso le strade intorno alla moschea di Rabah e la Dawiyah, muovendosi verso alcune basi dell'esercito per poi tornare nella piazza. Tra i manifestanti anche una donna senza il velo, segno che non ci sono solo seguaci dei fratelli musulmani a protestare contro il colpo di Stato. Il presidente Morsi deve tornare, è il legittimo presidente che ha vinto le elezioni. Il suo ritorno significa che il ritorno della Costituzione, del Consiglio dell'Asciura e della sicurezza per tutto l'Egitto è a portata di mano. Il fronte anti-Morsi ha scelto invece come quartier generale il palazzo presidenziale. I manifestanti inneggiano ai vertici dell'esercito, intervenuti il 3 luglio dopo le proteste di piazza contro Morsi, instaurando un nuovo presidente ad Interim, un nuovo governo e chiedendo nuove elezioni in tempi brevi. Credo che la libertà degli egiziani e il sentimento nazionale alla fine prevarranno, ma se c'è una qualsiasi fazione politica che crede di poter governare col sangue, questo significa l'assenza di democrazia e di vita politica in Egitto. Entrambe le manifestazioni sono avvenute sotto lo sguardo vigile dei militari, i quali avevano avvertito che nessuna violenza sarebbe stata tollerata, promessa mantenuta con il dispiegamento di aerei, elicotteri e mezzi corazzati. I contestatori nella piazza di Rabat e la Dawia e i dimostranti davanti al palazzo presidenziale sono separati da una strada lunga pochi metri, ma lo scontro politico tra le due parti rendono questo vuoto molto, molto più grande.